Mi hanno detto che tutto ciò che il disegno diventa reale. Testiamolo. Ho creato dei bambini bellissimi a... Mutiamoli. Fatto. Non mi sento bene, papà. Vieni qui, papà. Ancora. Oddio, ha funzionato. Il mio pennello è il migliore. E me aspetta. Ehi, riportaci alla normalità. Oh. Orario della lezione. Bambini, disegnatemi. Facile. Buono. Evviva. Il mio turno. Buono. Lascia che te lo disegni. Che cos'è questo? Cattivo. Aspetta. Mi dispiace. Ho troppo potere. Non disegnerò mai più niente. Popcat, cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare. Fatto. È la tua fine popcat. È la tua fine popcat. Oddio. Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri, come posso fare soldi? guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari. Oh my god. Prima io. Ah, perdenti. Il mio turno. Posso provare? Ah, sì, ma perderai. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Sta volando. Aspetta, come? Facile. Questa è impossibile. Ho bisogno di una nuova macchina. Ah. Andiamo. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Oh mio dio. Ce l'ho fatta. L'ultimo. Oh my god. What do you hate? My god. No way. Ce l'ho fatta. Non posso credere a quello che è successo, ma ecco il tuo premio. Sono ricco. Sono ricco, ma ne ho bisogno di più. Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra. Oddio. È questa la mia macchina? Sono il primo. Bel salto. Il mio turno. Che bel salto. I mean, it's all right, like... Tocca a me. Perdenti. Buon salto. Tempo per me. Nug. Oh my god. Arriverò alla mia lambo. Salto intermedio. Ora è tempo per il bagno. Aspetta, è troppo lento. Lasciate che ne disegni una nuova. Fatto. Fatto. Oddio. Quasi la fine. Congratulazioni. Hai vinto la terra. Andiamo. La polizia. Lui sta imbrogliando. Catturatelo. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Devo disegnare. Disegnare di nuovo. Fatto. Ok, è ora di distruggerli. Wow, ha funzionato. Capo, cosa devo fare? Saltami addosso. Grazie, ora devo nascondermi perché ce ne sono altri. Cosa dovrei disegnare dopo? Um. Pokat, aiutami. Stanno distruggendo la mia fabbrica. Oddio. Disegnerò personaggi personalizzati. Non ti preoccupare. Fatto. Wow. Ora penserò a qualcosa di strano. Fratello, che bello. Sta qui. Prossimo. Ah, incredibile. Ultimi due. Oddio. Prossimo. Fatto. Wow. Ok, attacco. Grazie mille. Pokat. Nessun problema. Ma ora sei in arresto. Mi dispiace. Cosa? Si fermi. Si fermi lì. Incredibile. Sono in prigione. Disegnerò la fuga. Bello. Bello. Um. Um. Um ciao. Sto valutando da ora. Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova. Lo farò io. Bello. Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi. Tutti i miei amici sono morti. Aiutami per favore. Disegniamo. Fatto. Evviva. Prossimo. Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire. Mi sta maltrattando. Per favore disegna un crucifisso. Non c'è da preoccuparsi. Grazie. Grazie. Il prossimo è Zolfius. Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco. Ok. Fammi provare. Fatto. Grazie. Voleva essere più grande della terra. Oh. Sarà difficile. Ma ce la farò. Ok. Ce l'ho fatta. Bene. Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends. È brutto. Quindi ciao ciao. Facile. Ok il prossimo. È stato picchiato dai bulli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente. Disegniamo. Fatto. Wow. Questo è così figo. Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito. I bambini restano qui per un momento. Beh i bambini. Una buona cena. Aspetta. Non mi sento così bene. Perché ci hai mangiato? Ehi se vuoi ottenere Robux. Per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora. Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con pazza. Smettila di inseguire le persone. Fratello. Il prossimo. Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo. Noi. Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea. Perfetto. Il prossimo. Fatto. Oh no fa schifo. Ma lo amo. Aspetta a prendere il vestito. Grazie. Il prossimo. Fatto. Forse l'ultimo. Oh my god. Disgustoso. Che cosa hai detto? Il prossimo. Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam. Oggi valuterò tutti i vostri jump scares. Prima. Hai. Ora tu. Buono. Prossimo. Ora tu. Ah, capito. Non fa paura. Il prossimo è lo squalo. Spaventoso. Ora scream Eugen. L'ultimo. Buono. Wow, è stato impressionante. Il prossimo morto. Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam. Mostrerò la tua faccia nella vita reale. No. E me sei metà cattivo e metà buono. Vai libero. Prossimo. Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle. Ehi, io farò una buona cena. Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando. Farò saltare in aria le loro case. Ah. Buono. Ora tu. Sono troppo debole. Finalmente. L'ultimo. Non funziona. Oh no. È troppo forte. Sei sopravvissuto. È bello. Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro. Lo farò. Wow, grazie. Voleva una moglie e dei figli. Ok, ti disegnerò una moglie e dei figli. Oh my god. Siete dei bellissimi bambini. Ah, bello. Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger. Quindi li vuole indietro. Cibo piacevole. Torna indietro. Cuciniamoli. No, 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 no. Non sotto i miei occhi. Per me sei una persona perfetta. Ok, il prossimo. È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico. Non credo che le tue scorreggi siano così cattive. Sei sicuro? Sto per morire. Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo. Oh, cos'è questo? Lo mangerò. Buono. Oh, aspetta. Devo andare in bagno. Buono. È ora di lavarsi le mani. Che diavolo. Il prossimo. È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso. È ora di fare pipì. Fatto. No. Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore. Lascia che lo disegni. Fatto. E per me fai solo schifo ma sei una brava persona. Prossimo. Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei. Per favore, baciami. Sei così intelligente che dovremmo stare insieme. Ok. Prossimo. Volevano avere dei figli ultra intelligenti. Ok. Fammi disegnare. Fatto. Sei così intelligente. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla. Wow. No, no, no. Smettila di inseguirmi. Devo disegnare. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva 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 e le uccideva. Hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno di Bambalena. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio. Cosa sta succedendo qui? Bambalena bevi questo. Ah. No, mai. Dammi quello. No, ora esploderò. Oddio. Cosa è successo qui? Perché tutti sono Bambalena? Questa persona ci ha cambiato e ora devi scoprire quale Bambalena è reale. Bamban, quale pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joel. L'hai baciato. Quindi abbiamo ancora dieci Bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima Bambalena. Wow, bellissima. Prossimo. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok, non sospetto. Prossimo. Ciao. Dove ti stai nascondendo? Per favore. Fa male. Sono forte. Un, non suona esattamente come Bambalena, ma va bene. Prossimo. Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Un, penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene. Ultimi due. Cosa? Ok, questo è Opila, ma l'ultimo. Ok, questo sembra normale quindi tu. Stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nobe bambalena. Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Ok, bene. Prossimo. Non male. Sembra reale. Ok, questa persona era sospetta prima. Attaccami. Dove pensi di andare? Wow, era come bambalenas. Non sei più un sospetto. Prossimo. Aia, la mia testa. Era reale. Prossimo. Ora tu. Cosa era quello? Non è bambalena. Fai di nuovo. Il secondo era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh, fratello. Perché hai lo spavento di Nabnab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Unne. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Aia. Perché lo spavento di Bambam? Oh, ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah, era Bambam. Ops. Ok. Prossima categoria. Disegnati ora. Ok, fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow. Buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Finn? Cosa? Um e nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Sceriffo. Che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah, avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Ohio Bambam. Prossimo. Bene. Ok, prossimo. Cosa? Figo. Prossimo. Bambino ma Bambam. Quindi ok. Prossimo. Bambam malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um e... E tu? Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Non è il migliore. Prossimo. Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No, no, no. Ne restano tre. Facciamolo. Vai. Siete al sicuro ragazzi? Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato, dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas dué pour des saints. Um, siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok. Quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi. Ah, è ora di cambiarti. Ah, perfetto. Un strano. Ok, tu. Mi ha portato a Umme, in prigione. Cosa? Non credo sia corretto. Ok, tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok, tu. Mi ha portato in bagno. Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello, sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok, non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora. Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Siete pronti? Sì, sì. Wow, è così veloce. Prossimo. E prossimo è prossimo. Ok, vediamo chi ha vinto. Bravo, sei stato veloce. E aspetta, perché ne manca uno? Mio Dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca seline. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow, sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste. Ok, quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow, sembra bambalena. Ok, quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok, dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nab nab. Molto strano. Ma ok, ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello, stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok, quindi il prossimo. Ok, quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok, quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio, questo è sospetto. Hai il corpo di nab nab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Pickles. Mi dispiace. Ok, quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok, quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah, sono sempre stato così. Ok, questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok, ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok, questo è sospetto. Due persone sono in Pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con nab nablena. Ok, bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di Pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un Pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da Bambam e poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matemati. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio, sono così intelligente. Sei intelligente come bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio, è la cosa di lumaca seline. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio, è come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. No. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei è alla cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Sì, è vero. Tutti amavano bambalena. Aveva dei bambini con bambam. Mostrameli. Wow, sono dolci. È stata colpita da Jambo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok, vediamo i risultati. Um, non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Jambo Josh. Mio dio. Ok, quindi sono due bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nabnab. Fratello. Era un maschio. Aspetta, bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok, sai cosa? Sei falso. Impossibile. Nabnab. Ok, quindi questa è la vera bambalena. Iai. Sì, finalmente mi hai trovato. Qualcuno ha ucciso bambalena. E anche qualcuno ha ucciso Nabnab. Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino. Chi è l'assassino? Aspetta. Mettini giù. Prima bam bam, vedo i tuoi denti su di lei. Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore. Yeah. Uh-huh. o no Ah, il mio braccio. Oh mio Dio, mi dispiace. Mani in alto. Mani in alto. Sei arrestato. Quindi l'hai uccisa? Ho solo morso la sua mano. Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione. Impossibile che sia in prigione. Ma aspetta. Oh no, abbiamo la stessa cella. Ah, finalmente posso vendicarmi. Mio Dio, quindi l'hai uccisa. Il caso è chiuso. No, aspetta. Ho ucciso un poliziotto per salvarla. Ah, sei chiuso qui dentro. No. Mio Dio, mi hai salvato. Bacio. Mio Dio, quindi li siete innamorati alla fine? Sì. Ok, passiamo al prossimo. Fata un uro. Stavo giocando con Bambalena e Nabla. Oh mio Dio, è stato così cattivo. Ma poi si è vendicato su di me e Bambalena. Spero che nessuno mi spaventi di colpo. Amico, fammi uscire. Ok, quindi Nabla l'ha solo spaventata di colpo. Ma aspetta, cos'è questo? Il naso di Coach Piccol. No, mi stavano prendendo in giro. Dove sei? Ah, cos'è questo? Il mio naso. Lascia che lo tagli per te. No. No. Oh mio Dio, cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro. Ehi cane, mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi. Grazie. Ora di vendicarsi. Amo il mio nuovo naso. Ehi, è la tua fine. Oh mio Dio! Ora è il turno di Bambalena. Ok, vedo Bambalena. Ehi, dammi il tuo naso. Ok. Grazie. Ehi, Bambalena. What? Muori. Ehi, 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 ehi. Brother, no, no, no. Quindi hai ucciso Nabnab e Bambalena. Non lo prometto. Impossibile. Figlio di Bamban, l'hai ucciso tu? Non sono stato io. Lo prometto. Ho invitato Bambalena al mio concerto. Ma Nabnab non piaceva l'idea. Ehi, Bambalena, ho fatto qualcosa per te. Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta. Ah. Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato. Ok, Nabnab, sei pronto per sentirmi cantare? Vai. Ah, tempo di riposarsi. Mindy l'hai ucciso. Caso chiuso. No. Impossibile. Chi lo ha fatto? Aspetta, c'è una siringa. Strumento del dottore. Penso che il rosso potrebbe ucciderlo. Non ero io. Cercavo di farli mutare. Ora di farti mutare. Mangia questo. Ah, no, 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 no. Ah, ora tocca a te. No, no. Ha funzionato, ah. E ora è il momento di unirvi. Muah, perfetto. Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì, ma non è successo. Mio Dio. L'umaca Selina è il tuo muco. Li hai uccisi. NANI? No, in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale. Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore. Cosa stava facendo? Stava schivando meme lol. Ok, ma dimmi cosa sai di Bambalena e Nab Nab. Mi ha buttato in piscina. Mio Dio, ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri. Di nuovo. Aspetta, ha dell'alfabeto. Hai ucciso Bambalena e Nab Nab. Ero un peluche normale, ma lei sedeva sempre su di me. Tempo di sedersi. Ah. Ehi, ehi, ehi. Un'ora dopo. Ho aggiunto delle spine su di me. Si pentirà di essersi seduta su di me. Tempo di sedersi. Ah. Brother, no. Ah. Ehi, ehi, ehi. Due ore dopo. Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a A. Bambalena, ceniamo insieme. Ok. Prendi posto. Sarà la cena migliore. Oh no, no, me. Sto rompendo con te. Aspetta cosa? Cinque ore dopo. Ultimo scherzo. Aggiungerò della TNTAA. Ah. O voglio dormire. Ho avuto una brutta giornata. No, no, no. No. Ah, aspetta. Agrer, è troppo. Hai distrutto la mia vita. Vieni qui. Cosa è successo dopo? Ti ha eliminato? Sì. Mi ha ucciso in cento modi diversi. Ti faceva male? Sì. Aspetta, qualcosa sta dando i numeri. Amanda, l'hai fatto tu? Ho visto Bambalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito. Tempo di guidare la mia nuova auto. Ferma, ferma, ferma. Ferma, ferma. Lei uccisa? No. Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa. Capisco. Amanda, anche lei è morta. Aspetta, vedo un coltello. Coltello dello sceriffo. Ehi, tu l'hai fatto. Stavo solo togliendo le loro maschere. Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt. Prima Bambalena. Amico. Altre maschere. Amico. Mio Dio. Altre maschere. Ehi, torna qui. Amico. Cosa. Ok, prima la fata. Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wally. Oh my god. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no. Sono brutto. Ah, cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo ah. Skipping. Yeah. Ok, dopo Nibbles. Oh my god. Adam di Lenkybox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò ah. Flamingo. Wow, pazzesco. Prossimo Nab Nab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Oh my god. Em, chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1 a M a verage. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo, dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bamban. Vediamo. No, per favore no. Cosa? Rick. Ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo è Squalo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo, Pigster. 4. Kylus. Prossimo allenatore Piccols. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo Nabnab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah, perché l'hai fatto? Hai ucciso Nabnab e Bambalena? Odiavo Nabnab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta, sono morti? Aspetta cosa? Sì. No. Aspetta, vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì. Bambalena. Lo sposerai? Sì. Aspetta. No, lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No, per favore no. Per favore no. Ma è... No, perché lo hai eliminato? Perché chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No, mio fratello. Quindi hai ucciso il falso NabNab. Sei un sospetto. Ah, opila. Perché? Era Zulfius, non io. Hai ucciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo. No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e NabNab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di Bamban. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi ha fatto. Aspetta, cosa stai facendo? Mio Dio Pigster, quindi hai fatto tutto tu? Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok, stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Evviva. Qualcuno ha ucciso l'uccello opila. Mia moglie. La mia mamma no. Troverò l'assassino. Non preoccuparti. È stato uno di voi. Bambini del film. Bambino del film. Eri tu? No, l'ho lanciata sulla luna ma era solo per divertimento. Era così dolce. Rispetto a te. Ci stavamo divertendo finché degli uomini in giacca non l'hanno rubata. Cosa c'è? Questo uccello non ti appartiene. Dobbiamo restituirlo al suo vero proprietario. Per favore, mantieni la calma e segui. Cosa? Quindi l'hai rubato a questo bambino. Stavamo facendo degli esperimenti su di lei. Opila, bevi questo. Ok. Ah, sei un perdente. Quindi l'hai uccisa. Andrai in prigione. No. Questa un minuto. Chi li ha uccisi? Tu. Quindi è stato la blanda. No, stavo facendo uno scherzo ai youtuber in quel momento. Ti vedo. Adam, scappa. Sono un genio. Go! Go all'opposito. What the hell? Go right, go right, go right, go. Go! What is going on? Oh no. Wow ragazzi. Justin è pazzo. Oh mio dio. Cosa faccio? Oh mio dio. Oh mio dio. Quindi l'hai uccisa. No, te lo prometto. Non sono stato io. Cosa? È morto. No, no, no. Non è possibile. Aspetta. Cos'è questo? Bambam, è tuo? Forse. L'hai ucciso. No, non sono stato io. Ero su un palco e tutti mi odiavano perché mi trollavano. Ero su un palco. Yeah, sì. Yeah. Uh-huh. a a perdente perché hai fatto questo nel tanto e bamban ora tocca a me nana nana amo cantare ti vogliamo bene bambalena perché hai fatto questo journey pro non può essere così Guardati dietro. Quindi hai ucciso Bambalena? Non è possibile. Ma chi ha ucciso Opila allora? Ho visto che qualcuno l'ha colpita con l'auto. Ehi Opila, attenzione, c'è un guidatore scadente. Oh mio Dio, ho visto che Pigsten controllava l'auto. No, non sono stato io. Mi sono innamorato di lei. Chiederò un appuntamento alla mia cotta. Opila. Ok. Un'ora dopo. Ok, mi chiedo cosa mi ha fatto. Cosa? Pesche. Ti amo. Ah, non sarò mai con te. L'hai incisa con un coltello. No, era uno scherzo. Ma lei mi ha fatto uno jumpscare. Era uno scherzo, te lo prometto. Non mi importa. No. Forse qualcuno della tua famiglia ha voluto aiutarti e l'ha uccisa. No, mio fratello si è fuso. Disgustoso. Ui, è un mene. Chi l'ha ucciso? Brother, no, no. Cos'è questo? I capelli di Amanda. Stavo usando il coltello, ma non su Opila. Guarda. Bello lavoro. Possiamo usare un coltello affilato. Non penso che dovremmo farlo da soli. È sempre buono essere coraggiosi quando sei da solo. Guarda, sono un pirata. Ah. Non sembra sicuro. Oh mio Dio, è stato così irresponsabile. Ma aspetta, cos'è questo? Nastro. Non ascoltatela. Ha ucciso Opila, te lo prometto. Che hai detto? Oh mio Dio, cosa? Wuli. Adesso tocca a te. Cosa? Oh mio Dio, mi hai salvato. Sì. Aspetta, posso vedere il tuo coltello? Sì. Piume del muccello Opila. No, mi stava bullizzando, ma non l'ho uccisa. No, per favore no. Non ferirmi. Ah, perdente. Ti taglierò il naso. No, 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 no. No. Prenderò vendetta su di te. Cane, puoi darmi il tuo naso? Fammi fare per te. Grazie. Dammi il tuo naso, amico. Mai. Quindi hai ucciso il muccello Opila. No. No, perché l'hai ucciso? Non sono stato io. Stavo togliendo le maschere a Garten dei personaggi di Bambam. Sono sceriffo e oggi vedrò le facce di tutti quei criminali. Oh mio Dio. Prima Selina di Lumaca. No, Dio, per favore no. Amanda. Come hai fatto a saperlo? Il prossimo nab nab. Per favore, no, no, no. Poliziotto Barry. Oh, tu, eh! Fratello. Sceriffo. What? Signor Flynn Flem. Wow. Ora Zolfius. Cosa? Nonì. Tuberi. Porcaro. Per favore, non mostrare questo in camera. Mister Beast. Oh, my God. Credevo che tu stessi regalando dei soldi. Ora Kanguro. Adam di Lenkybox. Ora tu. Justin di Lennycox. Hold up. Wait a minute. Tempo di Bambam. Per favore, non mostrare questo. Criccraft A. Ti amo fratello. Bambalena. Jenna. Ma aspetta, ne manca uno. Uccello opila. Aspetta. Fermati. Tornare. Per favore, lasciami in pace. Mai. Sei arrestato. Non è possibile. È sopravvissuta ed è andata a cercare aiuto. Ho bisogno di aiuto. Questa è la famiglia perfetta. Facciamo una reazione a qualche jump scare. Chiederò loro di adottarmi. Ehi, potete adottarmi? Cibo. Cibo. Quindi siete stati voi. L'avete mangiata. Oh mio Dio. No. No, sono venuti per lei. Chi? No, no, no. Non è possibile. Di nuovo le luci. Ehi, l'avete uccisa voi? Per parlare dobbiamo avere la testa al suo posto. Ok, lasciatemi disegnare per voi. Fatto. Il prossimo. Bene. E l'ultimo. Oh mio Dio. Siete pronti? Controlliamo. Mi fa male. Ok, ora dimmi cosa hai fatto a Opila. Ci deve dei soldi, quindi l'abbiamo spaventata. Ok, dateci i soldi o useremo i nostri jump scare su di voi. No, per favore, non sopravvivrei. Quindi date i soldi. Non li ho. Jump scare. Metti mi piace e iscriviti prima che tutte le paure passino e salverai Opila. L'hai uccisa. Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ma ci bullizzava fin dalla nascita. Credo sia giunto il momento. Amico, spaventerò questi ragazzi con uno spavento improvviso. Ah, sono un buffone. Ma non è comunque una ragione per uccidere le persone. Andrai in prigione. Ma non è morta. Ehi, ehi, fermati. Cosa hai fatto a quelle entità? Oh me, pensavo che avrebbero svelato il mio segreto. Quale segreto? Hai inciso Opila. Ho usato la magia per tagliarla in due, ma non ha funzionato. Oggi taglierò Opila in due. Oh mio Dio, spero tu sappia cosa fare. Iniziamo. Controlliamo. OMG, OMG Oh me, va bene. Em Non sembra buono. OMG, Opila mi dispiace. Ok amico, andrai in prigione per questo trucco di magia. No, aspettiamo il meglio. Cosa ho fatto? Em, chi sei? Hai ucciso la falsa Opila. Ora decidi quale è la vera. Questo è falso. Ho indovinato giusto. Per verificare quale è reale, disegnati. Fatto. Opila disegna incredibilmente bene, quindi sei fuori. Avevo ragione, disegna ora il tuo amore. Fatto. Va bene, sappiamo tutti che Opila ama lo sceriffo. Avevo ragione, non ho ucciso Opila. Quindi se non sei stato tu, allora chi? Non è possibile, il prossimo. Ah, ah. Aspetta, ehi. Ah. Cosa? Fermati. Perché ridi accanto a lei? Ridevamo perché la odiamo. Perché? Perché voleva mostrare a tutti le nostre vere voci. Sto per mostrare le vostre voci reali di Garten di personaggi Bamban. Prima Lumaca. Per favore, fa male. Ah. Prossimo, sceriffo. Dobbiamo porre fine a questa follia, non abbiamo molto tempo. Arriveranno presto. Poi, Jumbo. Vieni qui. Cosa hai detto? Vieni qui? O qualcosa del genere. Il prossimo, se fiddles. Sentiamolo. Voce straordinaria. Sei solo un insetto. Adoro questo verso. Ok, e l'ultima. Zolfio. Per favore, non mostrarlo. Per favore, non mostrarlo. Lo farò. Piacere di conoscerti. Vedo tutto. Il tuo tempo è finito. Perché hai fatto questo? Che cos'è questo? Aiuto. Ho tanta paura. Cadrò. No. È caduta e morta. È tutta colpa tua. L'hai uccisa. No. È sopravvissuta. Sono vivo. Oh, quindi è colpa di Jumbo. No. Ho cercato di baciarla. Ti bacerò. Per favore, no. Per favore, fermati. Fermati. È mia. Ok, quindi qualcuno rosso ha fatto questo. I bambini di Bambana. Non lo farebbero mai. Sono troppo dolci. Fratelli, adesso. Ok, quindi l'hai fatto tu. L'ho presa e l'ho gettata nel fuoco. Cosa? Opila è in questa borsa. La getterò nel fuoco. Quindi sei stato tu? Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ho trovato un video che non c'era Opila in questa borsa. Oh no, vediamo chi c'era dentro. Fiddles, non è possibile. Controlla la chiocciola Selene. No, non sono stata io. Eravamo fratelli. Penso che sia il momento. Perché questa è diversa? Ah, ah, ah. Sono così arrabbiata. Ed infine. Vieni qui. Quindi l'hai uccisa? No, erano i suoi fratelli. Non è possibile. Di nuovo. Aspetta. Dove va questo sangue? Qui. Chi è questo? La famiglia Mab Mab. Non l'abbiamo fatto noi. Sei un sospettato. No, eravamo in Squid Game. Ma hai ucciso Opila. No, eravamo in Squid Game. Andare. Skibi perché non vai? Non preoccuparti Opila, ci penso io. Come lo spiegherai? Era solo un gioco. Non è morta. Non c'è modo. Aspetta. Di nuovo. Cosa? Cosa è successo? Chi è questo? Ehi, sei stato arrestato. Dimmi cosa hai fatto a questo posto. E dov'è Opila? Posto. Pensavo che non lo avresti mai visto. Ok ragazzi, chi salta più lontano vince. Ti eliminerò Opila. Mai. Vai. Ho vinto, perdente. Ma tu avevi un'auto migliore. Non è giusto. Verità. Opila vince. Cosa? Non può essere così. Ok, ti abbiamo preso. Ora andrai in prigione. No. Ah. Ho visto tutte le vostre vere facce. E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò. Aspetta cosa? Scappiamo. Non posso scappare. Mi nasconderò dentro. Qui. Wow, bel posto. Vi vedo. No. Oddio, ho sentito qualcuno morire. Lei l'ha ucciso. Trovarli è troppo difficile. Devo accendere i raggi X. Vedo qualcuno lì. Salta su. Ok, il prossimo è qui. Lei è lì. Aspetta cosa è questo? A sella. Dove? Corri. Ciao ciao maiale. Schierare un nuovo mostro. Ok, devo trovare il prossimo posto. Aspetta. Questo è il nuovo cercatore. Nu. Qui. Pensavo che ci fosse qualcuno qui. Ma ti vedo. No. Penso che se ne sia andato. Velocemente. Wow, perfetto. Ti vedo. Penso di sapere dove si trova. Nu dove devo andare. Corri. Facile. Vieni un nuovo mostro. o no. Nuo nuovo mostro. Corri. Qui. O me questa stanza non sembra sicura. O no. Non so dove scappare. Wow, dove sono? O no. È la mia fine. Devo saltare. È l'unica opzione. A. A è morto. Non ancora. Nel frattempo. Sono tornato. Ed è ora di imbrogliare a nascondino. Drone. Che cos'è questo? Ti ho preso. Oh no. Sta barando. Non è giusto. Aspetta. È tempo di scivolare. Aspetta no. Dove dovrei nascondermi? Qui. Ok. Velocemente. Ora via. Finalmente. Qui siamo al sicuro per ora. Oh grazie bambalena. Hai anche una piscina qui. Non sembra normale. Vero ma aspetta. Cosa? Guardate dietro di voi. Di cosa stai parlando? O no. Stinger. Vieni qui. O no. Nascondersi velocemente. Forse qui. Qui. Ok. Devo trovare un nascondiglio. Mi chiedo se c'è qualcuno qui. O no. Qui. Dove? No. 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 Oh cibo. Mi sento così bene. Mi vedrà. Sento l'odore di qualcuno. O no. Scappo. Torna. Così vicino. Ragazzo. Resterò qui. Devo usare il bambam volante. Cattura qualcuno. Ok. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Oh no. Velocemente. Pozione. Non c'è modo. Dove è andato? Non lo saprai mai. Dai. Have a great time. Ah, facile. Me ne vado da qui. Veloce. Ho bisogno di un uovo nascondiglio. Aspetta qui. Wow. Oh my god. Ehi, cosa ci fai qui? O me nascondersi. Attacca. No. Non c'è modo. Corri. Cosa hai fatto? No. Torna poca. Corri. Un santo. Wow. Questo è epico. So dove è andato. Mi servono rinforzi. Siamo qui. Prendilo. Non stanno arrivando. Devo uscire. Oh, la prossima pozione. Sono fortunato. Bego. Bello. Dove è andato? Oh, lo vedo. È epico. Scappo via. Facile. Oro wow. Nel frattempo. Sento che c'è qualcuno qui. Aspetta. Uno mi ha trovato. Vieni qua. No. Mi dispiace maiale, ma è la tua fine. No. Wow, ho trovato questo posto illuminato. Il cercatore è qui. Devo stare attento. Popcat, spara. Ok. Bravo, Popcat. Oh, no. Qui. Wow. Il miglior nascondiglio di tutti i tempi. Dove sono e chi è questo? Dottore, che sta arrivando? Come? Dove è andato? Un giorno dopo. Ok. Sono rimaste solo cinque persone da mangiare. Schierare due mostri. Credo che questo maiale sia troppo lento per prenderci. O me aspetta. Nu. Nascondersi velocemente. Evviva. E viva. Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Aspetta. Jumbo. Nabnab. Sono laggiù. Stanno arrivando. Nasconditi. Ci sono solo alcuni polli. Co, co, co. Non siamo sus. Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani. Vai, have a great time. Era così vicino. Un'ora dopo. Questo posto è orribile. O me aspetta. Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo. Fratello e sorella, lo attaccate. Sposto. O me. Pensa che non lo troveremo. O no. Cercherò di nascondermi nel frigorifero. Adesso. Aspetta cosa c'è dentro. Pozione. Cosa? Devo berla rapidamente. O me. Ti vediamo. Noi ti vediamo. Devo diventare più piccolo. Sto uscendo. O no. Veloce. Morirò qui. Non c'è posto per nascondersi. O me cosa? Torna. No. Devo scappare. Wow, un nuovo posto. Vedo pigster. Prendetelo ora. Nu. Scappo. O me sono dentro di lui. Fratello, l'hai mangiato. Oh, mi dispiace tanto. Usciamo da qui. Aspetta, sono ancora dentro di lui. L'hai preso? Sì. Sto uscendo da qui. Pum. Aspetta come. Pum. Scappo. Qui. È scomparso. Ok, ci servono altri mostri. I bambini entrati. Ora prendeteli. No, stanno arrivando. Mi nasconderò. Qui. Bello. So che è lì. Lui è... Mi veloce. Ciao. Ehi, torna indietro. Siamo così grassi. Ok, ce l'ho fatta. Sono in classe con Bambalena. Bambalena, pensavo fossi morto. Oh, non importa. Lei è morta. Oppia ciao. Nasconditi Popcat. Oddio. No. Ah. No, è morta. Pensi che non sappia dove sei? È la tua fine. So dove sei. Dove è andato? 20 secondi prima. Devo uscire da qui. Oh. Wow. Oh no. Ho sentito che Stinger è morto. Penso che nessuno mi troverà. Ti vedo. No, per favore. Qui. Umme. Vieni qui. Sì, mamma, prendilo. Lasciami in pace. Lei è un perdente in piedi. Quindi siamo vivi solo io e Jumbo. Sono vivo, ma aiuto. Qui. Wow. Sono troppo grasso. Lo farò per te, mamma. Oh no, sta entrando. Wow. Sono al sicuro qui. Non per molto. Ma qui di sicuro. Non c'è modo. Ok, Jumbo è morto. Quindi ora devo sopravvivere e vincerò. Aspetta. Non c'è modo. Quale scivolo scegliere? Pigster. Sono nello scivolo. Oh no. Chi è questo? Torna. Sto scegliendo questo. Oh no. È la mia fine. No, fratello. Siamo qui per aiutarti. Oddio, Nub Nubs. Non c'è modo. Wow, fratelli. Abbiamo vinto. Grazie a tutti per aver guardato. È tutto per oggi e ricordate, non mollate mai e poi mai. Ragazzi, ciao. Dal Jumbo Josh più piccolo a quello più grande e al Jumbo più grande del pianeta. Devo salire su queste montagne russe. Controlla la tua altezza. Ok, nessun problema. Sei troppo piccolo. Vai al posto per bambini. Sarai il mio nuovo amico. Cosa? È il mio turno. Beh, salì. Ho un'idea. Scaverò la buca e ci entrerò. Sì, facile. È stato facilissimo. Pensavi di potercela fare? Jump scare. Non posso arrendermi. Aspetta, posso saltare attraverso. Andiamo. Ce l'ho fatta e sono diventato più alto. Il prossimo. Wow. E poi... Ehi, non lasciarmi. Devo saltare. Sì. E sì. Wow. È più alto. È il fratello. Cosa? Come ci sei arrivato? Mi sono intrufolato. Ti spezzerò tutte le ossa. Fermati. Le mie ossa. Papà, mi ha toccato. Non mi importa. Lui è più alto e migliore. Grazie. Ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile. Facile. Wow, sei così alto. Il mio turno. Difficile. Il prossimo tentativo. Sì. Wow, questo è difficile. Ah, sono un professionista. Figlio, sono fiero di te. Cosa? Salto. Yes, yes, yes! No, no, no! No, no, no. Perdente. Vero. Togliamolo di mezzo. No, no, no. Il giorno dopo. Sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia. Fermati. Ragazzi, è il momento dell'attività all'aperto. I bambini saltano attraverso quegli animali. Perdente. Perdente. Tutti mi maltrattano sempre. Devo smetterla. Bello. Yo. Perdente. Come è possibile? Il potere della mente. Sì. E l'ultimo. Ancora no. E adesso? Non può essere così. Chiamo mio padre. Maison dovrebbe vincere. Ha barato. Ok, controlliamo. Ok, la persona che salta sul livello più basso perde. Ok, sono il primo. Ottimo salto. Penso che Jumbo non mi batterà. È il mio turno. No, avrò il miglior salto di tutti voi. No, abbastanza buono. Grande salto. Ok, il mio turno è stressato. Ma posso vincere? Wow, ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Wow, ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Ok, sei davvero bravo. Congratulazioni. Sì, è vero. Eri l'uomo più alto del mondo. Grazie. Un me. Cosa? Non può essere così. Un me. Un ciao. Distruggi le sue ossa. Distruggi le sue ossa. Mi ha rotto tutte le ossa e sono in prigione e lui ora è il più alto. Tu sei la persona più alta. Grazie. Devo uscire. Torta. Mangiamo. Wow, era con la chiave. Corri, corri. Ora devo saltare. Saltare. Ok, questo è difficile. Holy Jesus. Papà, aiutaci. Sono così alto. Bello. Hai il vincitore. Nel frattempo... Questa è una gara per la persona più alta del mondo. Sono il primo. Bravo. Buono. Non abbastanza. Mi fanno male le ossa. È il mio massimo, ma sono ancora il migliore. Aspetta. Aspettate il mio tempo per salire. No, non puoi andare più in alto. Io posso A. L bozzo. Non può essere così. Farò il furbo. Cosa? Hai bevuto una porzione illegale. E adesso? Opila Verda ha vinto. No, aspetta. Sto sognando o sta diventando più grande? Sono lontano, vero? L'operazione è finita in sicurezza. Jumbo è la persona più piccola del mondo. Non può essere così. Sono scappato via. Ora devo tornare alla mia altezza. Veloce. Salto. Sì. Wow, mano. Wow, è bello. Opila Verda mi ha detto di colpire te e lo farò. Il prossimo. Fermati. Mai, mai. Questo è difficile. Wow, ultrasalto. Ora cosa? Sono più alto. Umme. Facile. Salto. Bello. Il prossimo salto. Oh, my God. Wow. Aspetta. Ho sentito più qualcuno. Prenditelo. Oh, my God. Salto. Oh, my God. Oh, my God. L'ha fatto. Oh, no. OMG. Veloce. Devo saltare. Mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il giorno successivo. Ma se non è così... Wow. Il prossimo. Difficile. Ma ce l'ho fatta. E l'ultimo salto. Oh, my God. Salto. Mi è riuscito. Opila. Mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni. Chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona. Ok, noob. Sono il primo. Bene. Questo è il mio limite. È il mio turno. È il mio turno. Oh, no. È il mio massimo. Devo distruggerlo in qualche modo. Sono svenuto. Aspetta. Opila, un uccello. Opila verde è il nostro dio. Opila verde è il nostro dio. Devo distruggerla. Out. Ma prima ho bisogno di aiuto. Poliziotto Barry, puoi aiutarmi? Opila verde è troppo potente. Sì, questi sono i criminali più alti del mondo. Dagli un punteggio per farli aiutare te. Ok, prima cosa. Ha le gambe lunghe perché è un robot. Mostrami. OMG. Qualcuno ha fatto cento copie di lei per distruggere il mondo, ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe. Tutti i miei Megan sono pronti. I am a robot. Aspetta. Chi è questo? Fermate subito le vostre azioni. Fermati. 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 Non è stato male. Ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici. La mia casa è un terremoto. Ti do un voto negativo. Scusa. No. Prossimo. Saltiamolo. Sì, sì, sì. Era la persona più grande del mondo. Questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo. Pronto? Via. Che cosa? Fatto. È troppo grande. Bene. Ti ho sempre apprezzato, bro. Ha fatto una collaborazione con Mercoledì e tutti l'hanno amata. Era divertente. Ti do un buon voto. È dalla Turchia e la Turchia ha problemi con i terremoti. Quindi vuole che le persone aiutino donando. Unisciti alla nostra squadra Skibi. Prossimo. Sei così grande. Era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto. Voglio essere più grande. Sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi. Penso che sia arrivato il momento. Ohio Bert. Ho bisogno di te nella mia squadra. Vai al buono. Stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario. Nice. Mi chiedo chi sia il mio avversario. Ah, ti distruggerò. Wow, hai perso contro King Kong. Io ero sempre nella squadra di Godzilla. Aveva dei bambini grandi come lei. Ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina. Bro, cosa stai parlando? Bene, l'hai battuto. Prossimo. Era super grande ma Superman lo ha portato in aria e lo ha distrutto. Questa è stata la scena migliore che abbia mai visto. Bene, prossimo. I suoi figli sembravano di Ohio. Mostrami i tuoi figli. Ok, sono dell'Ohio. Morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso. Oh, va benissimo. Sheriff e Lumaca. Voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle. Sono grandi? Sì. Wow, sono davvero grandi. Era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione. Sono così piccolo. Che cos'è questo? Eri una buona persona. Unisciti alla nostra squadra. Ora Ziphyr. Era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande. Wow, bella lumaca, voglio adottarlo. Nanna, nanna, nanna. Mi dispiace ma ti lascio bambino. Ti ha abbandonato perché eri troppo grande. È così triste. Faceva jumpscare alle persone per liberare la sua rabbia. Mostrami il tuo jumpscare. Solo due persone rimaste. Ma perché è così piccolo? Era più piccolo di un atomo. Vediamo. Wow, è così piccolo. Poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla. Mostrami. OMG. Quando si trasformava in ultra piccolo. Ok, ho bisogno di te nel mio team. L'ultimo. Era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto. Era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo. No, Dio! Era il migliore nel risolvere problemi matemati. Ok amico, sei nel nostro team. Vai al posto giusto. Ok, il mio team è pronto. Dai tutti i tuoi poteri. Sto diventando troppo grande. Wow. Facciamo l'ultima battaglia. Ok, inutile. Salto. Oh no. Ah, e adesso cosa? Oh no. Jumbo Josh è stato ucciso con un cecchino. E non preoccuparti, troverò chi l'ha fatto. Prima il cattivo dal film. Ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato. Oddio, ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui. Sì, ma è sopravvissuto. Oddio, quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato. Sì, quindi ho usato carri armati e esercito. Cosa è successo dopo? Ha distrutto i nostri carri armati. Non mi distruggerai mai io e il mio padrone. Classico Jumbo Josh W. Non sei stato tu, ma Jumbo Josh è stato ucciso. E vedo le piume di Shika e Freddy. Stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano. E vuoi comprare un po'? Un po' di cioccolato? Ne prenderò uno. Grazie. Poteva eliminarti, non tu lui. Oddio, bambà li hai uccisi. Sto mangiando personaggi di giochi popolari, ma non ho mai mangiato Jumbo. Ho così tanta fame. Lasciano mangiare. Carne molto cattiva. O vedo qualcuno di buono. Ancora cattiva carne. Fratello. Oh aspetta, era mio amore. Adesso lumaca. Ok nessuno di loro era buono. Ma penso che questo ragazzo possa avere un sapore migliore. Cosa stai facendo? Oh mi dispiace. Ok, quindi ha quasi ucciso te fratello. Jumbo era brutale. Oh me aspetta. Chi sei tu? Ero nella casa di Jumbo ed era spaventato di me. Perché questa cosa è nella mia casa? Aspetta ora è nella mia lavanderia. Devo andarci. Aspetta la vedo. È realmente qui. Oh no. Ehi tu. Nindy l'hai ucciso. Il caso è chiuso. No, è sopravvissuto. Non puoi spaventarmi in casa mia. Fratello, quindi chi l'ha fatto? Ho visto Tamataki accanto a lui. Tu, l'hai inciso. No, mi ha eliminato. Vieni qui, o hai paura di me? Nani? È troppo. Mi hai sputato addosso. Jumbo è davvero brutale. HMM non ho ancora alcuna prova. Ehi PopCut, controlla meglio Bambam. Oddio. Oh oh, non puoi scappare ora. Per favore non uccidermi. Per favore no. Grazie Paffi. Bambam, sei un sospetto ora. Ok, volevo spaventarli. Bello. Ti ucciderò. Ti hanno colpito con l'auto, fratello. Non sono tuo fratello. Oddio Fluffy, mi hai salvato. Grazie. Aspetta, ma chi è questo? Cosa stai facendo accanto a Jumbo Josh? Mi ha adottato quando ero giovane e lì mi odiava. Nanana. Umme. Chi è questo? Che dolce uccello. Ti adotterò. Umme. OMG impossibile. No, 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 man. Sai cosa? Sei troppo dolce per arrabbiarti con te. Ehi Opila, aspetta. Fratello è un maledetto tsunami. No, God, please, no. Ma lo pulirò. Fatto. Nu è troppo. Esci dalla mia casa ora. Dieci anni dopo. Aspetta, qualcuno sta suonando. Sei tu, uccello? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno. È morto. No, lo prometto. Aspetta, il mio schermo sta greciando. BB è qui. Ciao, ho hackerato il capitolo 4 del giardino di Bambam. Cosa? Wow, il nuovo capitolo sarà finalmente lit. Ma hai ucciso Opila e Jumbo. No, non l'ho fatto. Perché dovrei? Amanda. Hold up. Wait a minute. C'è solo un hacker in questo mondo. Io... Oddio, hai ucciso PB. Ma hai ucciso Jumbo. No, mai. Stavo solo prendendo in giro lui. Ehi Jumbo, lascia che ti disegni dei muscoli. Ok. Ha funzionato. Ora cambiamo il tuo volto. Cosa? Facciamone uno nuovo. Ora aggiungiamo delle gambe divertenti. Robin, no, no! Per favore fermati. Ok. Ho finito? Ciao. È stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto. Oh no! Oddio, chi le sta sparando? No, ferma. L'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche Jumbo. No, stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di Banban. Prima questa cosa. Prossimo uno pallone da basket. Ok, prossimo i figli di Opila. Tu vai al capitolo 3 per me. Perché sei dolce. Prossimo canguri. Prossimo. Bene. Prossimo Fiddles con i pantaloni a A. Ora prossimo Nabnablena e Nabnab. Buon jumpscare. Quindi ora meglio. Ok, prossimo Bambalena. Mostrami qualcosa. Prossimo uccello Opila. Ok, tempo per Banban. Banban. Quindi ora Robot Banban. Quindi il prossimo è il mio preferito ragazzo dal naso lungo. Oh my god. Ok, quindi prossimo abbiamo la lumaca a selene. Mi piacciono i jumpscares così. Ma ora tempo per Stinky Joel. Ora è il momento per Long Joe. Baccio. E Nibbler. Canguro fa Tauru dall'oaglio. Baccio. Ok, quindi prossimo Pigster. Questo ragazzo. Ok, andiamo avanti. Ne voglio uno tuo. Fa male. Di notte. Ehi, tu. Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere. Quindi ora è il momento della vendetta. Ah. L'hai inciso. Il caso è chiuso. No, aspetta. Non l'ha fatto. Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato. Questo è così cattivo. Spero tu sia sopravvissuto. Sì, quindi sono qui. Oddio, no way. Qualcuno ne ha fatto un pancake. Ho sentito dire pancakes. Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Giambo? Sì. Aspetta cosa? Eravamo su uno ship. Dai vai più veloce. Ok, ok. Sono bloccato. Penso che sia scivolato. Oh, mi dispiace. Aspetta. È morto. Non mi sento bene. No, ha sopravvissuto al 100%. Oh, my gosh. Mr. Beast, impossibile. Sono un grande fan. Grazie. Ma hai ucciso Giambo. L'ho appena spaventato con un poster. Che bel poster. Amo Mr. Beast. Ho un infarto. Aiutami. Ho bisogno di un nuovo cuore. Oh, mio Dio, cosa ho fatto? Non preoccuparti, ti darò il mio cuore. Grazie, ma Mr. Beast, cosa ti succede? Sto morendo. Sei un eroe. Grazie, ma penso che lo sceriffo sia sospetto. Ehi. Firma. Stavo solo mostrando i loro veri volti. Ora è il momento di vedere i vostri volti. Bambalena. No, per favore no. Sì, per favore sì. È un ragazzo. Fratello. Prossimo uccello opila. No, per favore. Wow. Cosa? Tipo sospetto. Ok, è strano. Voglio vedere la faccia di Giambo, ma ora Silent Steve. OMG. Oh, mio Dio. Gigachad dai video di Mr. Beast. È me che mi hai preso. Ok, pigster ora. What? No, John Pork ha iaccherato Cartoon Network. Un influencer di nome John Pork è stato trovato morto sulle rive del fiume Colorado. I primi soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina dopo diverse testimonianze oculari. Che diavolo. Ok, prossima lumaca Selene. Creekcraft. Non calvo. Prossimo Nabnab. Guarda i video di Mr. Beast. Prossimo uccello opila. Cosa? George Not Found. Fiddles Ciano. Per favore non farlo. Lo farò. Mi dispiace. Mr. Beast. Prossimo. Stinger. Ha a bel faccia fratello. Ok, prossimo è mio fratello sceriffo. Flamingo. Andiamo. Prossimo. Knuckles. Dababy andiamo. E l'ultimo. Se lo farai ti spaventerò. Il mio preferito. Amai. Attacco. No, non può essere così. Umme. L'hai inciso. No, lo prometto. Ehi, torna qui. Perché hai fatto questo? Tutti sceglievano i giocattoli del giardino di Bambane e nessuno sceglieva me, quindi ho preso vendetta. Figlio, scegli solo quattro. Ok, facile. Brutto fratello. Li prendo io. Ok, prendiamoli. Non può essere così. No, i miei giocattoli. Il caso è chiuso. Ho visto che Jumbo era morto. No, era solo un giocattolo. HMM, quindi chi potrebbe essere? Aspetta, elefanti. Guarda, ho un bambino. Non potevo eliminarlo. Aspetta, hai dei bambini? Sì. Oddio, così dolce. Nucchi li ha storditi. Lumaca. No, non l'ho ucciso. Stava solo schivando i miei attacchi. Bene, l'uomo diavolo rosso non ha funzionato, quindi eccoci qui. Sospetto, molto sospetto. Aspetta, chi è questo? Ti assicuro che non l'ho ucciso. Stavamo solo lottando per una ragazza. Pesche. Ti amo. OMG è così bello. Lei è la mia ragazza. Ah, vieni da me. Il troppo. Ti abbiamo preso. Non combattere mai per le ragazze. Non è Sigma. Non l'ho ucciso. Te lo prometto. Impossibile. Chi l'ha fatto? Aspetta, chi è questo? Vieni qui. Ehi. Cosa? Indovina chi è reale ora. Oddio. Ok. Mostrami i tuoi spaventi ragazzi. Prima. Non fa paura. Ok successivo. Spaventoso fratello. Prossimo. 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 Bello. E l'ultimo. Spaventoso ma sei falso. Wow è una bambalena. Quindi ora dite qualcosa ragazzi. Piacere di conoscerti vedo tutto sento tutto. Suoni come Zolfius. Prossimo. Siento lo siento. Cosa hai detto? Va bene non importa. Prossimo. Grazie a Dio. Sono così felice che tu sia qui. Pensavo che fosse la fine. Mi guardavo intorno e sono entrato nella stanza della sicurezza. Non è la voce di Zolfius. Ok l'ultimo. Dove ti nascondi? Per favore. Fa male. Ehi quest'ultimo sembra falso. Oddio l'umaca serine. Sono così vicino all'originale. Ne restano tre. Ho sentito dire che Zolfius era forte quindi colpisce questi muri e vediamo. Dai. Ok il prossimo giallo. Era più forte. Ok il prossimo. Il migliore di tutti. Quindi questo è falso. Nab Nab. Ok quindi ne restano due. Quindi sto rischiando e uccidendo l'ultimo. Oh pia. Avevo ragione. Quindi perché eri qui? Odio Garten di Bambane e ho fatto Jumpscare Fight. Bambam vs. Mostri più spaventosi. È tempo di fare la battaglia finale. Sei pronto? Vai. Sì personaggi vinto. Ah. Quindi hai ucciso Jumbo? Sì. Mi dispiace. Andrai in prigione. Ok ce l'abbiamo. Il vecchio Garden of Bambane è medio e cattivo. Abbiamo bisogno di qualcosa di meglio. Come loro. Oh my god. E ho idea di come farlo. Ho bisogno di cambiare quei bambini. Robin no no. Venite con me. Ho dei dolci gatti nei miei scantinati. Evviva mi amo i gatti. Ora entrate in questo barile. Qui. Ok. Entrate. Non ho scelta. Devo scegliere tra queste opzioni. Rosa. Due occhi o quattro occhi. Quattro. Fratello. Grassa o magra. Grass. Bello. Ora sono grassa. Mani di maiale o mani di scimmia. Di maiale. Ho le braccia di maiale. Bocca grande o senza bocca. Grande. Fratello. Nove denti o no. Nove. Naso di maiale. Benissimo. Essere uno chef. Io sono meglio. Gambe corte. Essere spaventoso. Wow sono un piccolo porcellino. Ok il mio turno. Colore ciano. Essere gigante o piccolo. Gigante. Essere assassino o essere amichevole. Assassino. Faccia sorridente. Essere ultra spaventoso o ultra carino. Carino. Spaventoso o spaventoso. Nu. Sono brutto. Andiamo. Essere viola o trasparente. Trasparente. Forse viola. No no no. Bello. Lingua di serpente o senza lingua. Di serpente. Prossimo. Molti denti o vampiro. Vampiro. Il jumpscare più spaventoso o quello più carino. Il più spaventoso. Testa di cobra o boa. Cobra. Due occhi grandi o nessun occhio. Due. Avere veleno o saliva. Veleno. Oh wow. Alto o basso. Alto. Ah sono figa. L'ultimo è assassino. Ah sono pronto. Fratello. Fa schifo qui. Verde. Occhi strabici o normali. Strani. Odore puzzolente o odore di fiori. Puzzolente. Oh my god. Fratello. Puzzo. Senza denti o con molti denti. No. Ho un aspetto brutto. Punte sulla schiena o capelli sulla schiena. Capelli. Fratello. Borsa della spesa o sacchetto della spazzatura. Ovviamente della spazzatura. Sono così puzzolente. Jumpscaler. Sono brutto. Io sono il prossimo. Faccia da agguato o faccia da bellezza. Agguato. Fratello. Essere gigante o piccolo. Gigante. Corpo nero. Wow. Collo lungo o corto. Corto. Essere assassino o amichevole. Assassino. Testa a ruota o testa a cubo. Ruota. Ultima scelta. Essere ultra spaventoso. Sono pronto. Ok il prossimo. Cosa dovrei scegliere tra marrone e rosso. Marrone. Bello. Avere una stella o non averla. Averla. Bene. Grande sorriso o grande tristezza. Che cosa addirittura significa la grande tristezza? Sorriso. Fratello. Un sacco di denti affilati o un sacco di occhi. Denti. Bello. Capello a cilindro. Bello. Sceriffo. Grande pancia. Ultimo. Gambe lunghe. Wow. Sono l'ultimo. Grasso o magro. Preferisco essere magro. Viola. Due occhi o dieci occhi. Due. Bello. Essere felice o triste. Felice. Gambe strane o normali. Strane. Essere cattivo. OMG. Wow. Sono perfetto. Wow. Famiglia. Siete pronti? Aspettare. Sei stato arrestato per aver mangiato dei bambini. No. Nanana giorno normale nella polizia dell'Ohio. Spockat devi controllarli. Sì. Oh mio Dio. Vediamo. Il primo è Pigster. Peppa e George si sono fusi ecco come è stata creata. Oh bello. Abbiamo Peppa e George qui. Entrare? N.O. No. Oh mio Dio così grande. Non è colpa tua. È la più grande di Jambo Josh. Ah sono più alto di te. Non dire così. E ora cosa? Lasciami in pace. Mai per le parole che hai detto. Il giocatore pensava che Pig volesse ucciderlo ma lei si sentiva innamorata di lui. Oh no. Vuoi uccidermi? Per favore. Non dire che lo vuoi fare. Per favore. No mai. Ti amo. Anch'io ti amo. Aveva un jump scare schifoso. Fammi vedere. E' stato davvero disgustoso e cattivo. Mangiava i bambini dell'uccellopila. Ecco perché era diventata grassa. E' ora di mangiare qualche pollo. Bene. Cattivo. Hai mangiato quelle dolci galline. Quando le si dà il peluche di Peppa Pig smette di inseguirti. Wow Pigster è così potente. Attacco. Oddio. Andiamo. Ha litigato con il gatto con gli stivali perché odia i gatti. Odio i gatti. Anch'io ti odio. Maiale per me è brutto che tu abbia ucciso il dolce gatto. Yo. E' arrivata al gioco ufficiale del maialino e ha mangiato il maialino. Ehi pidi dove sei. Nessuno ha più paura di te. Sei un vecchio gioco dai video di Creakraft. Cosa hai detto? Mi dispiace ma sei fuori. Era piccolo ma il dottore l'ha rubato alla mamma e lo ha trasformato in grande. Pensavi che ti sentissi? Aseta. Chi sta chiamando? Fratello. Lascia che ti cambi. Entra dentro. Controlliamo i risultati. Non è colpa tua. Quindi per me è una buona azione. Era super amichevole ma i giocatori gli sparavano proiettili dritti all'occhio. Fammi spararlo. Sono amichevole. Smettila. Sei stato trattato così male. E' triste. E' uscito dalla trappola e ha cominciato a distruggere Brookhaven. Non uscirà mai. Come? Si è innamorato della ragazza di Big Fiddles ma il dottore l'ha uccisa perché lo stava distraendo. Amore. Si. Mai. Ora sarete più concentrati sui jumpscares. Ha spaventato il mondo intero e ha distrutto la terra con questo. E' ora di distruggere il mondo. Per me sei una persona cattiva. Il prossimo. Fratello. Sei brutto. Era una squadra silenziosa a scuola. Il mio nome è Silent Steve e sono Emo. E' stato morso dal verme Viola. Smettetela di fare bullismo con me. Per favore. Ah 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 nubemo. Oh sono così cattivo in tutto. Ferme. Cosa? Ti sei vendicato su di loro quindi non è male. Hai iniziato a trasformarsi in Silent Steve e a spaventare tutti i bulli. Ci sono troppi bulli devo aggiornarmi. Forza sì. Facile. Snake eri davvero un bravo ragazzo. Vieni qui. Il prossimo sei tu. Sì sono io. Prima di trasformarsi in mostro stava cercando di risolvere l'omicidio di Skibididop. Oh my god. Chi ha ucciso Skibi? Questo è il mistero che risolverò. L'assassino ha ucciso tutte le persone che amava perché voleva che smettesse di imbagare. Uno di voi ha ucciso Skibi. Aspettate. Aspettate. Chi ha fatto questo? Se hai visto chi ha fatto questo metti mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il prossimo giorno. Ha trovato l'assassino ed entrambi sono caduti in piscina tossica e mutati. Torna indietro ora. Mai. Ti imprigionerò. Sei un guansheriffo per me. Vieni. Tutti loro sono stati valutati. È tempo per il mio aggiornamento. Wow sono Pigster LVL1. Valutiamo di più. Perché ogni valutazione è uguale nuovo aggiornamento. Creatore di Garten of Bambam prima. Prima di creare il Garten of Bambam ha valutato tutti i loro jumpscares ed erano spaventosi. Oggi valuterò tutti i vostri jumpscares. Primo uccello opila. Fa paura ma è molto lento. Quindi non si arriva al secondo capitolo. Faccio un po' di cacca jumpscare. Il prossimo è Pigster. Wow questo urlo è stato fantastico. Devo dire che è stato grande grande ma non il migliore. Il prossimo è Big Fiddles. Era medio ma non peggiore. Ok la prossima. Bambalena. Era spaventoso. Devo dire che è stato grande. Ma non è ancora il migliore. Il prossimo è Jumbo. Buono ma non il migliore. Prossimo. Ho sentito dei suoni strani. Quindi è stato molto brutto. Ora Joe è il puzzolente. È stato spaventoso. Quindi vi do il massimo. Il prossimo è Selina e Lumaca. Ti sto dando il cattivo. Il prossimo. Davvero brutto. Non era nemmeno spaventoso. Nab Nab il prossimo. Sì 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 perfetto. Il migliore. Te l'ho dato. Prossimo. Buon jumpscare. E l'ultimo. Cattivo. Morire. Sei stato così cattivo con loro, fratello. Per far funzionare il suo piano ha creato delle sculture di Darten of Bambam e le ha vendute. Lasciatemi fare sculture. Fatto. Oddio. Conosceva le voci e i volti reali dei personaggi di Darten of Bambam. Non c'è modo di mostrarmi, per favore. Sei solo un insetto per chi ci vive. Sbrigati, salta dentro, ho bisogno di raccontarti una storia. E così ci ritroviamo. Questa volta non scapperai da me. Io vedo tutto. Sento tutto. Wow, conosco le loro voci grazie a te. Ha bruciato tutti i personaggi di Darten of Bambam. Ah, è ora di bruciarvi tutti. No, per favore. Non farlo. Ah, troppo tardi. Sei cattivo per me. Mi sento aggiornato. Wow, il prossimo. Guardava le persone quando attraversavano il giardino di Bambam, ma una volta si è spostato. Amo questo posto. Un me aspetta. Ha litigato con un'imboscata per averlo copiato. Wow, 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 wow. Perché mi hai copiato? Ha trovato una ragazza e hanno avuto dei figli troppo grandi. Ha diventato un uomo grasso e ha cominciato a diventare più grande della Terra. Sono il più grande della Terra. Zolfius, sei un uomo buono. Vieni qui. Aggiornamento. Bello. Il prossimo. Tutti quelli che lo vedevano pensavano che fosse il ragno. No, 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 no. Ragno, spruzzarlo. Muori, muori. Non è colpa tua, quindi bravo. Quando l'hanno messo sotto il piatto, ha scavato un buco ed è saltato su di loro. Ragno sotto questo piatto. Oh, così vicino. Ok, penso che sia ora di togliere il piatto. Cosa? Ha scavato un buco, oddio. Wow, 300 IQ. Il suo salto è spaventoso. Tutti erano spaventati. Buono. Correva sui muri come l'uomo ragno e combatteva con lui. Per me sei bravo. Il prossimo. La sua nascita è stata molto divertente. Penso che sia il momento. Wow, sto per uscire come nuova forma di vita. Blu o rosa? Blu. Un occhio o tanti? Uno. Bello. Faccia fissa o faccia normale? Normale. Un dente o dente normale? Un dente. Essere un numero o una lettera? Un numero. Si è riprodotto un milione di volte nell'RP di Brookhaven. Il mio esercito è pronto. Ha creato F e T per combattere l'uno contro l'altro ma F ha vinto. La prossima brava persona. Lo adoro. Indovinate un po' chi non va in prigione stasera? Krik sei il prossimo. Ha scredato tutti gli hacker su Roblox. Si è rasato a zero. Ho rispetto per il fatto che tu l'abbia fatto per il meme. Ha detto di iscriversi a PopCut. Come si fa? Si è rasato a zero. Oh mio Dio, Jenna. Oh, si è fatto! Ho fatto! Ho dovuto provare. Grazie a tutti per aver guardato. Guardate i miei altri video. Scrivetevi a PopCut. È davvero fantastico. Ho dovuto darmi alcuni di questi hack. Siamo arrivati alla prossima. Bye! È stato molto tempo fa, ma grazie Krik. Vieni qui. Mi sento aggiornata. Sì, è tempo di valutare un altro. Primo schipididop. È rimasto incastrato nello scivolo e cento persone sono scivolate dopo di lui. Tempo di scivolare. No. Ha fatto slittare il mio turno. Ha creato il suo parco giochi solo per le persone grasse. Questo parco giochi è solo per persone grasse. Sono brava. Sì. Che dire di me? Ah. Ha aperto un ristorante dove lo chef del poliziotto Barry scucinava e il cibo era delenato. Il giorno dopo nel mio ristorante. Dammi il cibo. Di più. Qui. Buono. Di più. Qui. Cucinava persone magre. Cattivo. Successivo. Era un piccolo pesce nero, ma il dottore lo trasformò in uno squalo palustre. Mangiava tutti in un sol boccone. Il suo jump scare era disgustosamente spaventoso. Mostrami. Schifoso. È stato brutto. Successivo. Bambalina. Studente vittima di bullismo in classe. Bamballa trasformata in un mostro quando erano bambini. Lei si sentiva innamorata di Baldi e lui aveva litigato con Bambam. Mi dispiace Bambalena ma sei cattiva. E l'ultimo. Spaventavano i bambini che non imparavano. Il padre dei bambini che avevano spaventato si arrabbiò e li cucinò. I bambini a scuola mangiavano il loro cibo. Di nuovo molto cattivo. Ok, questo è tutto. Grazie per aver guardato ragazzi e ci vediamo nella prossima puntata. Grazie.